Se pensiamo, se parliamo di innovazione, escludendo il discorso diciamo classico del web che viene in mente a tutti, ma invece pensiamo più, la domanda si orienta di più sul discorso del marketing e innovazione, direi che oggi dobbiamo ragionare in termini di processi ma soprattutto di ideazione di prodotti che possano stare sul mercato in modo innovativo e dobbiamo ragionare secondo una logica di sistema. Cosa intendo? Bisogna saper leggere i sistemi di riferimento in cui un'azienda e un prodotto si pongono e provare a ragionare su come questi oggetti all'interno del sistema di riferimento, che noi chiamiamo poi di solito quadro competitivo, contesto di mercato, eccetera, possono essere riprogrammati, ripensati, a volte proprio spostandosi, ampliando il proprio contesto, a volte restringendolo, a volte intervenendo, valorizzando alcuni processi di lavorazione, a volte ridefinendo i mercati di riferimento. Cioè, quello che voglio dire è che abbiamo tutto un patrimonio, una serie di possibilità, pensando soprattutto al mondo artigiano, di ridefinire il nostro prodotto a partire proprio dal DNA del prodotto stesso e dal contesto di riferimento e riprogettarlo in termini di marketing rendendolo più competitivo, senza necessariamente avere tutta la capacità di lettura, la tecnologia e la conoscenza del mercato che normalmente è in mano alle grandi aziende. Cioè, ci sono delle possibilità di innovare lavorando su alcune operazioni di marketing molto semplici che vanno ad agire sul DNA del prodotto o su alcune pratiche proprio di lavorazione che consentono oggi all'artigiano di offrire la propria competenza, la propria capacità, il proprio sapere anche ad aziende, a designer, a mettersi in gioco in campi che magari non sono il suo tradizionale, valorizzando sia i materiali, sia la lavorazione, sia i propri prodotti, ripensandoli, ridisegnandoli, rivestendoli in modo che possono incontrare le esigenze del mercato. In questo chiaramente ci sta una necessità di rendersi disponibili a un ripensamento, a un'apertura, a un modo di ripensare il proprio prodotto e non solo secondo quelle che sono le prassi consolidate. Questo è sicuramente lo sforzo principale che si richiede. Allora, se la domanda riguarda come è evoluta la comunicazione in questo ambito, nell'ottica dell'innovazione, sicuramente ci rendiamo conto che la comunicazione attualmente è focalizzata sull'utente, sul cliente, cioè il focus è proprio spostato sull'utilizzatore e non è più possibile fare un racconto asettico del prodotto, quanto piuttosto partire dalla dimensione più emozionale, più coinvolgente di chi poi quel prodotto lo utilizza. Un esempio molto pratico è quello, per esempio, del prodotto turistico. Quando un viaggiatore, consumatore, arriva su un territorio, non è semplicemente un fruitore di un prodotto, non è semplicemente interessato ad avere un buon servizio da un hotel o un qualunque, diciamo, operatore del territorio, ma vuole vivere quel territorio, vuole entrare in relazione, vuole conoscerlo, vuole fare esperienza della sua cultura. Questo ci, più di un tempo, c'è sempre stato così, ma adesso questa cosa è esasperata, è già la ricerca precedentemente su internet. Questo in realtà vale per tutti i prodotti. I prodotti oggi devono essere oggetti di una narrazione, in cui il protagonista è poi il consumatore, che va alla ricerca non solo di un oggetto prodotto, ma di un'esperienza. Questa esperienza coinvolgente, che lo richiama e lo riporta a riconoscersi nella marca, nel prodotto, nell'azienda, nell'esperienza, richiede quindi poi all'impresa un cambiamento nelle logiche di comunicazione, dove nel cambiamento ci sta proprio la focalizzazione sull'utente, sulla sua esperienza, sul valore che questo utente va ricercando, e non più su se stessa e sui propri prodotti. Questa visione completamente spostata ovviamente, come dire, è speculare a quanto sta accadendo sui nuovi media, cioè se su internet le persone vanno a richiedere, a cercare, a dialogare con le aziende, richiedono un'interazione più diretta e poi raccontano le proprie esperienze sui prodotti, questo in generale poi condiziona tutta la relazione tra azienda e impresa e proprio cliente. Ci sono luoghi di vendita che giocano solo sul fatto di far sperimentare i prodotti. È importante rendersi conto che il discorso dell'esperienza, dell'emotività, il racconto del prodotto, l'autenticità del rapporto tra azienda e cliente sono il cuore della nuova comunicazione e sono i valori su cui qualunque impresa deve puntare per poter rendere il proprio prodotto protagonista pur raccontando, come possiamo dire, la qualità del prodotto, non è che si vogliono nascondere. Però in questo momento il punto fondamentale è il soggetto che utilizzerà il nostro prodotto, il suo racconto, la sua esperienza, la sua emozione nel momento in cui viene in contatto con i nostri servizi o i prodotti della nostra azienda. Grazie a tutti!